Ben trovati amici alla rassegna stampa di Fano TV, oggi è mercoledì 23 novembre 2023. Come sempre leggeremo i giornali questa mattina per le notizie che si sono così accavallate, avvicendate nella giornata di ieri, il resto del Carlino è il Corriere Adriatico, ci sono notizie importanti, le vedremo dopo, prima però passiamo attraverso l'Almanacco. E vediamo chi è il santo del giorno, oggi si festeggia San Clemente I Romano, San Clemente è stato pontefice, il terzo pontefice della storia della chiesa cattolica. Fu discepolo di San Pietro, quindi visse nel primo secolo, ovviamente dopo Cristo. Fu il terzo papa dopo Lino Eccleto, oratore, scrittore, zelantissimo. Tratto in arresto sotto l'imperatore Traiano, fu mandato ai lavori forzati nelle cave del Cersoneso. Quindi per tutte le opere di carità che aveva compiuto anche durante la sua prigionia e anche per quanto riguarda i miracoli, l'imperatore lo condusse a morte e lo condannò ad essere gettato in mare con al collo legata a un'ancora. Ma anche in questo caso non mancarono i miracoli e la sua vita fu tutta piena di cose sensazionali. Quindi San Clemente I Romano e chi va a Roma e visita la chiesa di San Clemente non mancherà di trovare delle sorprese molto molto interessanti dal punto di vista archeologico. Vediamo ora le previsioni del tempo. Il tempo espira aria di burrasca, nella notte il vento forte, le nubi si sono accavallate e vicendate in tutta la regione, cieli molto nuvolosi anche al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi in serata. I venti saranno tesi al mattino, poi moderati, il mare è mosso, le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 13 gradi. Vediamo che il sole sta per sorgere alle 7 e 12 minuti, tramonterà alle 16 e 37. Ed ora vi faccio vedere una sorpresa, anzi ce la mostra la regia. Vedete questa immagine è un po' diciamo così, un po' offuscata, però è un'immagine che rende bene l'idea. Siamo vicini all'inverno ed è caduta la prima neve. Questa è un'immagine del Monte Nerone, è il rifugio Corsini. Vediamo un albero e una macchia un po' scura che dovrebbe essere il rifugio. Il resto bianco non è opacità, è neve, quindi veramente comincia a fare freddo. E con questa immagine poi diamo inizio alla nostra rassegna stampa. Sul resto del Carlino l'apertura è dedicata ancora ad Anastasia. La nonna abbraccia il nipotino, ma il padre però ha ancora la potestà genitoriale. Sono in corso tutte le pratiche perché la nonna, la mamma di Anastasia, con la figlia, appunto la sorella, possano avere con loro il nipotino e quindi tornare nella loro patria. C'è stata un'udienza ad Ancona per rimuovere la potestà genitoriale appunto del padre assassino. Venerdì è fissata l'autopsia sul corpo di Anastasia. A setaccio anche tutti i cellulari del presunto assassino, così per ricostruire tutte le motivazioni, tutti gli eventi che hanno preceduto il delitto. Lo hanno stretto forte al petto, è l'incipit dell'articolo firmato da Elisabetta Rossi e Anna Marchetti. Lo hanno stretto forte al petto, lo hanno baciato, lo hanno coccolato, gli hanno sussurrato parole in ucraino, proprio come avrebbe fatto la sua mamma. E questo bambino, che ormai è praticamente orfano perché il padre è in galera e la madre purtroppo non c'è più, chissà se vivrà una vita felice. Comunque l'affetto non mancherà, l'affetto dei suoi parenti. Veniamo ad un'altra notizia di cronaca. Posta foto Ose della ex è definito in manette. Si tratta di un uomo di 30 anni, nato cattolica, ma è di origini africane. È disoccupato e ha diversi precedenti sulle spalle. Ieri mattina è stato arrestato, l'arresto è stato convalidato, perché così per vendicarsi della sua ex aveva posto queste foto Ose sul web ed ora è accusato di stalking e cercava la vendetta per la fine della sua storia. In quest'altra pagina invece si parla ancora della perdita dei 20 milioni che il comune di Fano ha subito perché non ha rispettato la scadenza per l'investimento di questi contributi che arrivavano attraverso la regione dallo Stato. In questo caso non parlano più, insomma parlano, hanno già parlato gli esponenti politici, gli amministratori, ma parlano i singoli cittadini. Ed è una rappresentante di loro, ovvero una cittadina fanese che abita su una via molto trafficata e che forse dal completamento degli interquartieri avrebbe ricevuto un beneficio e quindi rimarca la sua scontentezza per quanto è avvenuto. Si tratta di un insegnante, Simonetta Fragassi, insegnante fanese che interviene in merito alla perdita del finanziamento per la variante di Gimarra. Da decenni si parla di trovare soluzioni al traffico in città e ora anche questo progetto viene messo nel cassetto, anzi viene messo nel cestino e la cosa è incredibile. Secondo poi altre retroscena che emergono di fronte a quanto è avvenuto sembra che la soluzione c'era. L'aveva elaborata Edoardo Carboni, un rappresentante della maggioranza delle liste civiche eravamo già d'accordo ma sembra che anche qui siano mancati i tempi. La soluzione qual era in realtà? Era quella di dirottare il traffico al casellino come avevano chiesto spesso gli ambientalisti ed era la direzione più semplice, meno costosa, fare un interquartieri che si sarebbe diretta verso il casellino di Fenile quindi il traffico avrebbe imboccato l'autostrada per uscire poi a Santa Veneranda per il collegamento Fano-Pesaro. Parco eolico offshore, progettisti in comune. I tecnici della società TECFEM hanno incontrato il sindaco per cercare di assicurarsi il collegamento del parco eolico che sorgerà in mare aperto davanti a Fano con la stazione di Terna, la stazione elettrica che è a Carrara. Dal parco eolico e delle sue dimensioni hanno parlato in un recente incontro il sindaco Massimo Seri è l'amministratore delegato di TECFEM partner di Agnes nel progetto. Il parco eolico dovrebbe essere realizzato a 30 chilometri dalla costa fanese. Si dovrebbe avere la certezza della connessione con la centrale elettrica di Carrara perché ovviamente se si produce l'energia elettrica ma poi non si distribuisce tutto rimarrebbe inutile. Santa Croce da potenziare ma da qualcun altro. Ebbene ieri in consiglio regionale ci sono state due interrogazioni una delle consigliere di maggioranza Luca Serfilippi e l'altra dal gruppo consigliare del Partito Democratico sulla sorte dell'ospedale Santa Croce nel quadro della riforma sanitaria che la regione intende realizzare a partire dal 1 gennaio del 2024. Qual è la sorte del Santa Croce? Ebbene ancora una volta l'assessore Saltamartini è stato un po' evasivo. Si ha detto che l'ospedale Santa Croce rappresenta uno degli ospedali più importanti della regione Marche che si continuerà ad operare l'integrazione con l'ospedale di Pesaro che è più vocata alla chirurgia per quanto riguarda tutte le sue specialità ovvero neurochirurgia, ostetricia, ortopedia, insomma tutto quello che ha a che fare col bisturi. Mentre l'ospedale di Fano ha una chirurgia più specializzata, più limitata ma ugualmente complementare alla prima. Santa Croce da potenziare ma da qualcun altro. Ebbene sarà da potenziare quando ci sarà l'area sanitaria territoriale in quanto il passaggio ormai dei due ospedali sia del San Salvatore che del Santa Croce è prossimo. Si è parlato dell'ospedale cittadino in consiglio regionale sui 50 posti di ortopedia decideranno le future aziende sanitarie territoriali se darle ai privati oppure darli all'ospedale pubblico. Ecco, ed ora vediamo l'entroterra. Vediamo l'entroterra, siamo a Monteporzio. Baresi scende in campo, uno dei giocatori più così ammirati dei nostri campionati, Franco Baresi. Sabato sera sarà a Monteporzio per un evento organizzato dal Milan Club Valcesano. un sodalizio che ha appena sei mesi di nascita, di attività, ma è già particolarmente vivace, ha già organizzato iniziative interessanti. Ebbene, Baresi ha pensato di legare la presenza di questa sua figura al club per una iniziativa a sostegno delle famiglie colpite dall'alluvione del 15 settembre. Quindi una bella iniziativa di solidarietà. Pergola, città delle tinte, i conti non tornano. La Corte dei Conti ha bocciato il progetto per dar vita ad un distretto di produzione di pigmenti naturali. L'opposizione commenta, noi l'avevamo detto. Ebbene, la Corte dei Conti ha bocciato senza appello questo progetto a targa Partito Democratico Pergola Unita, che più in particolare porta i nomi dell'assessore Santelli e del dimissionario assessore Mariani. Lo evidenzia il gruppo consigliare di minoranza Pergola nel cuore. A proposito di una iniziativa dell'amministrazione comunale, avente come finalità quella di dar vita ad un distretto delle tinte naturali, riportato in auge, riportando in auge quello che era l'arte della tintoria, che proprio a Pergola, nei secoli XVI e XVII, aveva avuto una grande fortuna. Però, insomma, la Corte dei Conti ha detto no. E questo progetto tramonta. Ed ora siamo a Mondolfo. A Mondolfo la Giunta taglia le proprie indennità a favore dei cani. Nel quartiere marottese di Piano Marina sarà realizzata una dogarea, ovvero uno sgambatoio, diciamo, più terra-terra. Uno sgambatoio attrezzato per cani, le cui risorse necessarie derivano dalla riduzione delle indennità del 10% che la Giunta Barbieri ha introdotto sin dall'inizio della sua entrata in carica. E quindi, di anno in anno, questi soldi serviranno per finanziare una iniziativa. E quest'anno tocca proprio allo sgambatoio. Ebbè, insomma, non sono tasse dei cittadini che servono a questo, ma è il sindaco e gli assessori che si tassano per offrire alla città questa importante attività, questo importante esercizio. Siamo ad Urbino. La Chiesa guardia le persone, non ai numeri. È ancora in furia la polemica sulla soppressione della Diocesi. I sindaci sono molto duri contro l'ipotesi di accorpare la Diocesi di Urbino a quella di Pesaro. Ed è in gioco anche il territorio di Urbania e di Sant'Angelo Invado. I sindaci tornano a sollevare la questione appunto di questo accorpamento proprio in occasione della visita che il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha fatto alla città Ducale. E mentre in passato la Regione è stata un po' sulle sue, non si è sbilanciata nel favorire questa o quell'altra tesi, questa volta invece il Presidente del Consiglio regionale sposa la tesi appunto di Urbino. E si farà portavoce delle istanze urbinati presso la conferenza episcopale marchigiana. Insomma, la Diocesi di Urbino deve essere salvato e la città Ducale deve continuare ad avere il suo Vescovo. Un altro articolo che credo importante, perché così fa risollevare diverse curiosità, è quello che riguarda questo incontro su Federico da Montefeltro. quest'anno sappiamo si ricorrono 600 anni appunto di questo grande personaggio e c'è stato un incontro a cui hanno partecipato il professor Tommaso di Carpegna Falconieri con, grazie a Maria Fachechi, Antonello Coccorsaro e Luigi Gallo, oltre a Tommaso appunto di Carpegni Falconieri. Ebbene, si è parlato di Federico, si è parlato di Federico da Montefeltro. È un convegno che rimarrà negli annali. Perché? Perché in questa occasione è stato presentato il progetto di digitalizzazione degli archivi vaticani. Pensate, la mole di documenti che saranno messi a disposizione del pubblico. Gli archivi vaticani sono i più forniti per quanto riguarda la vita del Rinascimento, dell'epoca barocca, insomma tutto quello che è seguito. Ebbene, in questo caso questo progetto porta la firma di Claudia Montuschi che è responsabile dei fondi manoscritti e di Silvia Maddalo che sta accensendo tutti i codici miniati e poi tra questi codici ci sono quelli urbinati che sono veramente i più belli. E poi c'è Elisa Tosi Brandi che ha portato alla luce una vicenda particolare. Undici arazzi, fiamminghi, preziosissimi della guerra di Troia che probabilmente aveva commissionato Battista Sforza assieme al marito che andarono poi in dote alla figlia Elisabetta che sposò un malatesta. Questi arazzi andarono a Rimini e poi che è successo non si sa più. Questi arazzi sono spariti. Undici arazzi fiamminghi, quindi molto molto preziosi che ritraevano le immagini della guerra di Troia. Chissà che non si ritrovino. Due amici alberi per gli allunni di Pian Severo questo è il titolo che appare in quest'altra pagina siamo sempre ad Urbino la forestale e lega ambiente hanno piantato nel giardino della scuola assieme agli allunni un ciliegio selvatico e un acero montano insomma tutto rientra nell'edicuzione ambientale dei ragazzi. Qua vediamo invece come a Cagli si riuniscano gli speologi di tutto il mondo da 7 all'11 dicembre ci sarà un raduno internazionale per illustrare le meraviglie sotterranee dell'Apennino Umbro Marchigiano non ci saranno soltanto convegni ma ci saranno anche visite accompagnate in grotta in cavità artificiali percorsi di trekking inoltre si svolgeranno tutta una serie di attività collaterali come molteplici escursioni naturalistiche e culturali nei suggestivi sentieri del Catria e del Nerone quel bel Nerone che abbiamo visto prima imbiancato di neve. A Urbania nel barco Ducale un convitto con gli studenti dell'Agglario il parco Ducale tornerà finalmente a rivivere con tanto di inquilini tra le sue mura è un utilizzo stabile per quanto riguarda questo bel complesso di carattere rinascimentale era il casino di caccia del Duca Federico che è veramente splendido così immerso in questa piana nei pressi di Urbania. Vediamo ora qualche notizia di Pesaro e vediamo come il resto del Carlino evidenzi questo ritrovamento che risale all'ultima guerra un ordigno bellico un ordigno bellico impressionante lo vediamo qui nella fotografia vediamo che è cosparso di fango quindi si vede poco ma insomma è di considerevoli dimensioni un ordigno bellico da disinnescare saranno evacuate 900 persone il disinnesco è stato programmato per domenica 4 dicembre a case bruciate per precauzione verranno allontanati i residenti resteranno fuori casa per tutta la mattinata dalle 8 a mezzogiorno si cercano anche strutture per ospitare che magari non ha dove andare e quindi deve essere assistito per tutta la mattinata di domenica comunque è una operazione molto molto delicata perché insomma questa bomba ha ancora in sé tutti i meccanismi attivi per lo scoppio ed ora parliamo del maltempo parliamo del maltempo perché la pioggia e il vento la bora ha innalzato in modo considerevole il livello dell'adriatico il mare bussa alla porta di casa si è alzato di un metro il molo del porto è stato chiuso una camionetta della capitineria ha bloccato il traffico perché le onde erano alte e pericolose la situazione come al solito è molto critica lungo la pista ciclabile l'acqua è arrivata fino alla massicciata ebbene il mare stava veramente per bussare alla porta di casa ieri mattina si è rischiato anche a Pesaro l'effetto Venezia dove a Venezia però c'è il Mose che ha trattenuto buona parte dell'acqua e quindi l'innalzamento del livello del mare si è limitato è stato ridotto e poi vediamo qui quello che è stato ieri in consiglio regionale l'attacco delle minoranze nei confronti dell'assessore Stefano Aguzzi per il quale sono state richieste le dimissioni in merito a quanto accaduto durante l'alluvione del 15 settembre scorso non passa la sfiducia all'assessore regionale e ovviamente l'esito era scontato ma è senza sconti il giudizio delle opposizioni Aguzzi sarebbe stato giudicato inadeguato al ruolo lui invece dice è stato fatto il possibile di più non si poteva fare ebbene si tratta dell'emergenza appunto del 15 settembre quando l'alluvione colpì l'entroterra Pesarese e Anconetano causando 13 vittime il Carlino dice che è stato senza sconti il giudizio di Romano Carancini del Partito Democratico che ha rimarcato la totale assenza di Aguzzi in presenza o da remoto nella sala operativa della regione in quei drammatici momenti è un concetto che è stato rimarcato anche da Marta Ruggeri capogruppo del Movimento 5 Stelle mentre l'assessore ha detto che in quel momento è stato fatto veramente tutto il possibile per cercare non appena si è avuta la coscienza di quanto stava avvenendo del diluvio che si stava riversando sia nel comune di Senigallia che nell'alto Montefeltro insomma verso Cantiano verso i centri pre-apenninici appunto della nostra provincia e dice penso sia stato fatto quanto possibile rispetto alla eccezionalità dell'evento dispiace che si strumentalizzano fatti così delicati e drammatici io non lo farei ma so che c'è qualcuno che punta a tenere all'alta l'attenzione su questo fronte in maniera strumentale insomma c'è stato un dibattito politico ad alta tensione ieri in regione bene però c'è una buona notizia sul fronte dell'alluvione il governo ha stanziato 400 milioni da ripartire tra le località che sono state alluvionate i sindaci bene 400 milioni ma adesso si deve fare presto Cantiano Frontone Serra Santabondio amministratori soddisfatti per i fondi stanziati dal governo forse potrebbero non bastare comunque è importante che non si metta di mezzo la burocrazia e soprattutto che i tempi debbono essere celeri ed ora passiamo al Corriere Adriatico l'apertura è dedicata anche qui all'ospedale l'ospedale che secondo Saltamartini sarà potenziato ma come e quando non si sa infatti Saltamartini come abbiamo detto ha delegato le decisioni che verranno poi prese dall'area sanitaria territoriale che sostituirà l'azienda sanitaria che al momento lega l'ospedale di Fano a quello di Pesaro dibattito in consiglio regionale su reparti posti letto autonomia però qui nessuna risposta ha sottolineato la consigliera del Partito Democratico Micaela Vitri l'abuso in un casolare in campagna ovvio alentato una ragazza minorenne per l'imputato il PM ha chiesto 5 anni e 5 mesi di carcere prima l'avrebbe fatta ubriacare ebbene davanti al giudice si sono presentate due parti una riguarda l'autore imputato di una violenza sessuale nei confronti nei confronti di una giovane 17enne che sotto l'effetto dell'alcol sarebbe stata violentata lui invece ha 20 anni e di origini siciliane ieri le richieste del pubblico ministero hanno riguardato 5 anni e 5 mesi di prigiovani il giovane appunto è accusato di viere violentato la minorenne l'accusa del ministero del pubblico ministero è un'accusa pesante lui sostiene che la giovane era consenziente ovviamente la difesa è sempre quella e sta al giudice poi decidere da che parte sta la verità sia dalla parte del violentatore tra virgolette o la parte della vittima anche qui tra virgolette messa in sicurezza di via papiria sia l'integrazione della ciclovia su questa pagina il corriere adriatico rievoca un dibattito che c'è stato nell'ultima seduta del consiglio comunale quando è stata approvata l'unanimità una mozione della lega per quanto riguarda la messa in sicurezza di via papiria che unisce la città di Fano alla zona industriale una via molto trafficata specialmente nelle ore di punta quando al mattino la gente si reca al lavoro oppure quando ritorna l'intervento è molto atteso diventa effettivo grazie appunto al fatto che adesso l'impegno della giunta è stato messo nero su bianco e quindi esulta la lega perché veramente questa era una infrastruttura molto molto importante la messa in sicurezza del tratto che parte dalla fine dell'attuale pista ciclabile e prosegue verso tre ponti ne favorirà l'utilizzo sia da parte di coloro che già usano per raggiungere la zona industriale la bicicletta e coloro che invece da tempo aspettano questa nuova realizzazione dell'opera insomma quelli che attendono la pista per usare la bicicletta e quelli che già la usano e vediamo anche la pagina di Senigallia dove appare un appello degli alluvionati alla presidente del consiglio dei ministri Meloni bollette assurde adesso ci aiuti lei sono arrivate sulle spalle di questi alluvionati le bollette dell'energia elettrica energia elettrica che serve per liberare scantinati tutto quello che è stato alluvionato dal fango che ha immerso la città ebbene dopo questa disgrazia arriva la batosta appunto delle bollette quindi si fa appello alla Meloni perché giungano contributi da parte dello Stato vediamo qualche notizia che giunge da Pesaro si tratta di un appello che emettono i poliziotti noi poliziotti al freddo e una questura a pezzi umiliante lavorare così ebbene quello che è accaduto il maltempo ha così aumentato i disagi di chi lavora in questura a Pesaro e quindi c'è un appello del SIULP del sindacato che che difende i diritti appunto degli agenti di polizia affinché ci giunga a rimedio e poi un altro articolo ve lo voglio segnalare è quello che riguarda invece la viabilità di Ponte Valle dove sono accaduti diversi incidenti fate rispettare il limite dei 50 è l'appello dei residenti un appello al quale anche noi ci associamo e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno ad occhio alla notizia su Fano TV questa sera alle ore 20 e 30 il TG appunto della nostra emittente vi ringrazio per l'ascolto a risentirci a domani t wort di Ponte Valle